Grazie, sono tornato a casa e mi emozionerò come al solito. Le cacoli di Venza no, eh. No, mi allaccio e continuo un po' il discorso che hanno fatto entrambi e ringrazio sia Furio di essere qui, sia Peppe e Enzo per avermi voluto qui. Mi rilaccio al discorso un pochino che facevano entrambi. Io penso di aver giocato la mia miglior stagione in carriera qui, quindi è un fatto paradossale anche perché, come sappiamo bene tutti quanti, ero vecchio, decrepito e ho vissuto un'annata splendida sotto ogni punto di vista e sono convinto che quello che mi aveva spinto a giocare a palacanestro in un certo modo era tutto quello che orbitava intorno a me. Ed ero cresciuto secondo me come uomo, prima che come giocatore. Io in Capodorlando vedo, avendola vissuta come esperienza personale, la vedo un'opportunità per tutti quelli che hanno la fortuna di scendere in questo posto meraviglioso dove giocare a palacanestro è molto semplice, è molto semplice e molto gratificante e quindi parto dal presupposto che quello che ho vissuto io mi piacerebbe, dico mi piacerebbe ed è forse quello che mi mette più entusiasmo che lo vivessero gli altri, cioè che l'affetto che ho sentito io, le emozioni, le esperienze che ho vissuto qua io le possono rivivere a questi ragazzi. Sostanzialmente quello che ho fatto io nella palacanestro, quello che sono riuscito a vivere grazie alla palacanestro e grazie a persone come voi o persone come quelli con cui ho condiviso anche altri bei momenti a Varese, mi piacerebbe riuscire a farli rivivere ai ragazzi che ora alleno e quindi non vi chiedo altro se non di essere voi stessi con dei ragazzi che in questo momento stanno facendo un po' di fatica perché sono molto giovani, a differenza loro io ero vecchio e avevo degli svantaggi, però è anche vero che la mia vecchiaia mi aveva dato la possibilità di vivere questa esperienza nel modo più giusto. Capodornando è un posto dove, ripeto, è facile giocare a palacanestro, però chiaramente se si è giovani ci si fa condizionare anche da altre cose. Io sono sicuro che con l'affetto mio di furio, la spinta energetica e di entusiasmo che daremo tutti noi dello staff, con il vostro supporto secondo me le cose possono cambiare e devono cambiare. Sì, passi dall'estero, l'allenatore troppo vecchio che arriva a Capodornando, l'allenatore troppo giovane che arriva a Capodornando, sempre troppo, entrambi, in sostanza non sono né nel primo caso.